Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono iW2FND Lucio ed oggi vi ho preparato una videopillola su come realizzare un'induttanza per cortocircuitare i poli del bocchettone ed evitare così che le scariche elettrostatiche danneggino i nostri apparati. Tutte le volte che il temporale si avvicina a noi radiomatori viene il patema d'animo sia per il timore che la forza del vento ci danneggi l'indispensabile antenna e sia per l'accumulo di cariche elettrostatiche che si sfogano con scintille tra i poli del connettore d'antenna o peggio nello stato d'ingresso della nostra sensibile radio. Ecco che l'ingegno umano si fa strada. La prima idea è quella di mettere tra i due poli del bocchettone d'antenna, il più vicino possibile all'antenna, una resistenza di alto valore come una resistenza da 1 mega ohm o da 100 kilo ohm in modo da convogliare a massa le cariche senza perturbare più di tanto l'impedenza caratteristica dell'antenna. La soluzione presenta però delle criticità come il reperimento di una resistenza ad impasto di carbone di così alto valore e di discreta potenza. Di solito un paio di watt bastano per i nostri temporali perché l'energia dell'impulso di tensione che si manifesta ai capi della resistenza si dissipa bene ai capi di una resistenza da un paio di watt. Infatti la scintilla si manifesta in aria umida quando la tensione supera i 2000 volt per millimetro. Quando ciò avviene nel nostro bocchettone d'antenna significa che ci sono almeno 8000 volt. Di conseguenza la corrente che scorre nel nostro resistore è di circa 80 milliampere. Per fortuna che dura solo un centinaio di microsecondi e così l'energia dissipata dal resistore resta molto contenuta. Quindi occorrerebbe una resistenza di valore molto più basso al limite un cortocircuito in modo da drenare la carica mano a mano che si presenta ma senza perturbare più di tanto l'impedenza della nostra antenna. Pensandoci bene un dispositivo del genere esiste ed è il choke. Il choke è costituito da un induttore che ha un'impedenza piuttosto elevata nei confronti della radiofrequenza ma è un cortocircuito per la continua e per le bassissime frequenze. La sua reattanza è data dalla formula x con l uguale a 2 pi greco f o meglio la sua impedenza è dominata dalla reattanza induttiva che si esprime come 2 pi greco la frequenza per l'induttanza. Dalla formula si capisce che l'impedenza va aumentando linearmente all'aumentare della frequenza. Abbiamo scoperto l'uovo di colombo. Ora la domanda è ma quanto deve valere l'impedenza del choke perché non perturbi troppo l'impedenza della nostra antenna? Rispondere a questa domanda è un po' più difficile. Bisogna mettere mano le formule. Nel caso ideale avremo un'antenna perfettamente accordata con un'impedenza caratteristica al bocchettone di 50 ohm. Il suo SWR sarà quindi 1. Bene, di quanto vorremmo che il nostro SWR ideale sia perturbato quando gli mettiamo in parallelo il nostro choke perché un po' di perturbazione la dovremo accettare per godere del vantaggio che ci dà il choke, non credete? Si dà il caso che ogni qualvolta mettiamo un'impedenza x in parallelo ad un carico r avremo una variazione dell'SWR. Per cui se decidiamo prima il valore massimo accettabile dell'SWR potremo trovare il valore dell'induttanza x da mettere in parallelo alla nostra antenna. Il valore di x che troveremo è quello minimo perché in teoria con più l'induttanza è grande con meno si farà sentire nel parallelo col nostro carico che è costituito dalla nostra antenna. La formula da utilizzare al netto di tutti i calcoli è la seguente, fidatevi, un buon valore di SWR potrebbe essere 1,05. Facciamo i calcoli e vediamo quanto vale la nostra reattanza. X con R sarà dato da questa formula e svolgendo i calcoli risulta 1024 ohm. Si direbbe proprio un valore fattibile ma quanto sarebbe l'induttanza del nostro choke? Per trovare l'induttanza dobbiamo dividere per 2πf, già per f la frequenza, ma quale frequenza? Ricordiamo che la formula dell'impedenza induttiva che abbiamo appena visto ci dice che l'impedenza cresce linearmente con la frequenza per cui il valore minimo di x si ha alla minima frequenza. Se la nostra antenna è multibanda la minima frequenza HF sarà 1,8 MHz. Da ciò ricaviamo il valore dell'induttanza che deve avere il choke. Vedete L è uguale a tutta questa formula e il cui risultato è 90,5 MHz che rotonderemo a 100 MHz. Il choke da 100 MHz è decisamente fattibile. Come fare a realizzare un choke da 100 MHz? Una delle prime cose da considerare è la corrente che transita nel nostro choke perché questa influisce sulla scelta del diametro del filo. Per calcolare la corrente non possiamo applicare la legge di Ohm perché la corrente elettrostatica che è una continua sarebbe grandissima. Infatti sarebbe limitata solo dalla resistenza del filo che è di pochi millio ma per un tempo brevissimo, un centinaio di millisecondi. La potenza dissipata su una resistenza quasi zero quindi sarà anch'essa molto piccola, cioè quasi zero. Tant'è che prima siamo arrivati alla conclusione che la resistenza da mettere in parallelo alla nostra antenna sarebbe dovuta essere la più piccola possibile. Ma nell'uso normale della nostra antenna la corrente che attraversa il choke a causa della potenza che mandiamo all'antenna c'è e non è trascurabile, vero? Vediamo quanto potrebbe essere. Con 500 Watt di potenza RF in antenna, la potenza legale, a 1,8 MHz, la tensione efficace su una resistenza da 50 Ohm, cioè l'impedenza caratteristica della nostra antenna, sarà V uguale alla potenza per la resistenza sotto radice, quindi 500 per 50 uguale a 158 V. 158 V su un'impedenza Z da 1024 Ohm sviluppano una corrente in modulo ovviamente pari alla tensione fratto l'impedenza, 158 V fratto 1024 Ohm che fanno 0,15 A, 150 mA. Se pensiamo che la nostra induttanza abbia un Q decente, diciamo 50, allora la sua parte dissipativa sarà R uguale a X fratto Q, cioè 1024 diviso 50 che fanno circa 20 Ohm. La potenza dissipata sull'induttore quindi sarà la potenza uguale alla resistenza per la corrente al quadrato uguale a 20,48 per 0,15 A uguale a 0,46 W, mezzo W, molto ben gestibile da un filo di rame smaltato da per esempio 0,5 mm di diametro, giusto quello che io ho in casa. Deciso il diametro del filo occorre calcolare il numero di spire. In prima battuta la costruiremo in aria, ci costerà un maggiore numero di spire ma la semplicità ci dà molta forza. Per farlo sfruttiamo l'ottimo software di Rainiero i4 JHG disponibile gratis su Aris Candiano denominato radioutilitario. L'alternativa è usare una ferrite toroidale FT5043 ma preferiamo la vita comoda che radioutilitario ci offre gratuitamente HI. Una volta lanciato il software scegliamo circuiti LCR questi qui e poi costruzione bobine per HF. Lasciamo la spunta qui trovare il numero delle spire e inseriamo l'induttanza che è 100 microenri. Accidenti adesso ci chiede il diametro del supporto ma a che diametro mettiamo? L'aiuto alla scelta ci viene dalla formula delle induttanze che ci dice che l'induttanza aumenta col quadrato delle spire e fin qua non ci piove. Aumenta l'aumentare dell'area della singola spira quindi del diametro del supporto della bobina e si riduce con la lunghezza dell'avvolgimento. Quindi dovremmo cercare di fare un avvolgimento grosso e non troppo lungo. Per esempio uno di diametro da 32 mm è lungo 32 mm. Proviamo a mettere i dati e vediamo cosa succede. 32 32 Calcola. Perbacco! Mi dice che servono 67,3 spire ed il diametro del filo è 0,48 mm. Avevamo pensato ad un filo da 0,5 mm quindi ci siamo quasi. Andiamo per tentativi ed allunghiamo un po' la bobina finché non troviamo che il diametro del filo questo qua non è uguale a 0,5 mm. Proviamo con 33 mm. Vediamo calcola 0,49 mm. Proviamo con 34 mm. Calcola 0,49 mm. 35 mm. Ecco mettendo 35 mm come lunghezza dell'avvolgimento otteniamo un filo da 0,5 mm e dovremmo avvolgere 69, praticamente 70 spire sul nostro rocchetto, sul nostro tubo. Come facciamo che non abbiamo l'avvolgetrice? I problemi non finiscono mai. Potremmo tagliare 6,98 mm di filo, anzi diciamo un po' di più, 7,5 metri ed avvolgerli a mano. Dopotutto una settantina di spire non sono poi così tante. Tagliamo quindi 65 mm di tubo da elettricista del 32 mm. Pratichiamo un foro a circa 13-14 mm da un lato per fissare il primo capo del filo e procediamo all'avvolgimento. Ecco fatto. Ho avvolto 91 spire. Ho fatto un altro foro in corrispondenza della fine dell'avvolgimento per fissare il secondo capo. Spelliamo i reofori e misuriamo l'induttanza con l'LCR meter. 131 microenri. Non male direi. Radio utilitario ci prende abbastanza. Vediamo ora come si comporta in frequenza col mio VNWA. Sul VNWA ho impostato la frequenza di start a 0,1 MHz, quella di stop a 30 MHz e ho visualizzato l'impedenza con la traccia S11 sia sul piano e sia sulla carta di smette. Poi ho calibrato il VNWA col kit SOL sulla porta 1 e spostato il piano di calibrazione sul piano di misura. Infine ho collegato l'induttore alla porta 1 e ho lanciato la scansione. Il grafico che vedete evidenzia una risonanza a 7,78 MHz. Poco male ma dopo la risonanza l'impedenza calerà perché la capacità parassita che c'è tra spira e spira del nostro avvolgimento prende il sopravvento. Per fortuna che a 30 MHz troviamo ancora 1600 Ohm che è un'impedenza abbastanza buona. Ho fatto altre misure su altre induttanze. Questa che vedete è un choke della EPCOS da 100 µH 1A comprato da RS Components con codice 213-1910. Anche questo ha una vistosa risonanza a praticamente 11 MHz ma conserva ancora 2,7 Kilo Ohm a 30 MHz. Direi che anche questa soluzione è molto valida. Questo che vedete invece è un choke fatto da me su una ferrite FT5043 dove ho avvolto 17 spire di filo per avvolgimenti di diametro 0,5 mm. Anche questa induttanza ha una risonanza qui a circa 10 MHz e conserva a 30 MHz 2,5 Kilo Ohm di impedenza. Anche questa soluzione è valida quindi. Infine ho misurato una resistenza a impasto da 1,8 MHz. A 30 MHz ha ancora un'impedenza di 2,1 Kilo Ohm e a 1800 invece ha un'impedenza di 33 Kilo Ohm. È evidente che il valore resistivo è troppo elevato per essere efficace. Avrei dovuto utilizzare una resistenza più bassa da 100 o 200 Kilo Ohm ma col calare del valore resistivo sarebbe calata anche l'impedenza qui a 30 MHz. Quindi di tutte le misure fatte è l'unica soluzione poco performante. In conclusione quindi ritengo che le soluzioni che abbiamo visto all'inizio, cioè l'induttanza costruita in aria, l'induttanza acquistata presso la EPCOS, l'induttanza costruita con una ferrite, siano tutte valide. L'unica che io non adotterei è quest'ultima fatta con un resistore ad impasto per i motivi che abbiamo visto all'inizio del filmato. Infine il fatto che le induttanze abbiano un punto di risonanza non è un problema se non per il fatto che subito dopo la risonanza l'induttanza cala e quindi bisogna controllare che alla fine della banda ci sia ancora abbastanza impedenza per non perturbare troppo l'impedenza della nostra antenna. Ma alla risonanza di solito le induttanze come avete visto hanno un'impedenza molto elevata quindi si fanno molto poco molto poco sentire. Bene, anche questa videopillola finisce qui. Se vi è piaciuta o vi è stata utile mettete un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella così non vi perderete i prossimi video. Alle prossime, ciao!